Grazie a tutti. Attraverso Garanzia Italia di Sace sono state concesse garanzie per 12,7 miliardi di euro su 450 richieste ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla Task Force sulle misure per l'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Medio Credito Centrale e Sace. Dalle dichiarazioni dei redditi 2018 risulta che il 94,7% del gettito IRPEF è versato dai soli lavoratori dipendenti e pensionati, mentre solo il 5,3% del gettito netto è versato da altre tipologie di contribuente. A rivelarlo è uno studio sul gettito fiscale italiano a cura del servizio politiche fiscali della UIL. Per il sindacato questa situazione fotografa l'iniquità del sistema fiscale italiano ed non è più sopportabile. La UIL chiede una vera riforma del sistema fiscale che tagli le tasse a chi le paga, vale a dire ai lavoratori dipendenti e pensionati, attraverso un significativo aumento delle detrazioni. Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto di approvazione dello statuto della fondazione Enea Tech che dovrà gestire il primo fondo italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico. La fondazione, istituita con il decreto rilancio, avrà lo scopo di promuovere investimenti e iniziative in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese che operano in Italia. La fondazione potrà partecipare e investire in start-up e PMI innovative, spin-off universitari e di centri di ricerca e sviluppo. Gestirà inizialmente risorse per 500 milioni di euro. L'emergenza coronavirus fa crollare del 30% la spesa turistica per la tavola a causa dell'assenza dei vacanzieri stranieri e della ridotta disponibilità economica di quelli italiani colpiti dalla crisi con drammatici effetti sulla ristorazione e sull'intera filiera agroalimentare. È quanto emerge da una stima della Coldiretti sulla spesa turistica per il consumo di pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per il cibo di strada o specialità enogastronomiche, che scende nel 2020 sotto i 20 miliardi di euro, dopo una crescita costante nel corso dell'ultimo decennio. Grazie per la visione!